Ciao a tutti, sono Luca De Gennaro e vorrei parlarvi di Time to Love, che è una nuova onlus che sostiene progetti molto importanti in tutto il mondo, destinati specificamente alle mamme e ai bambini, alle donne e ai bambini che ne hanno bisogno. Time to Love sarà anche una serata musicale alla quale vi invito il 10 settembre al Palabanco di Brescia. Ci saranno un sacco di colleghi, DJ, musicisti, musica dal vivo per sostenere e raccogliere fondi per la onlus Time to Love. Ci vediamo tutti a Brescia il 10 settembre.